Ciao a tutti ragazzi, video di oggi dedicato a Sky via Fibra perché mi è arrivata nella giornata di oggi il decoder per vedere i canali tv e quant'altro tramite la fibra internet. Prima di vedere come installare il decoder, visto che comunque è molto semplice, spero, farò un'installazione come ho fatto per altri dispositivi in tempo reale insieme a voi, quindi se ho qualche problema lo vedremo insieme. E prima di vedere l'installazione andiamo a vedere qualche requisito che dovremo avere per utilizzare Sky tramite Fibra. Allora, quello che dovrete avere è una Fibra Wind Vodafone o di un altro operatore che riesce a garantirvi in download almeno 15 megabit. Per verificare questa velocità vi basterà fare uno speed test anche sul sito di Sky, io prima di andarlo ad attivare ho fatto lo speed test e vi posso assicurare che comunque avevo ben oltre 15 megabit e quindi sono andato ad attivare il pacchetto. Allora, potrete attivarlo tramite internet oppure potrete attivarlo anche in un centro commerciale come ho fatto io. In questo momento ci sono diverse offerte e l'offerta che ho scelto è stato cinema e intrattenimento a 29,90 per il primo anno con canone mensile. Appoggiamo un attimo il decoder prima di vedere l'installazione, lo appoggiamo un attimo qua. Allora, il motivo per cui ho voluto riprovare Sky è perché comunque tramite Sky via Fibra non abbiamo bisogno della parabola che nel mio caso non posso installare o comunque sarebbe antiestetico. E tramite la fibra e rispetto al vecchio Sky online che è diventato poi NowTV ci permette di avere i canali come Sky con parabola. Questo aspetto non è da sottovalutare perché l'intento di questo video oltre a farvi vedere che la configurazione è molto semplice è farvi vedere come e cosa ci permette di vedere Sky via Fibra. Perché comunque prima di attivare Sky via Fibra il mio dubbio, dopo sono andato a chiedere nel centro commerciale cosa potevo vedere, era se potevo avere le stesse identiche trasmissioni di chi ha Sky con parabola. La risposta è stata sì perché comunque anche tramite il digitale terrestri vi ricordo che non avremo gli stessi canali o comunque tutte le funzioni che abbiamo Sky con parabola, mentre con la fibra potremo avere i canali veri e propri come Sky. Detto questo andiamo ad aprire il pacchetto, andiamo a vedere la configurazione e andiamo a vedere una panoramica di Sky via Fibra. Ok ragazzi andiamo a vedere il pacchetto cosa contiene. Allora dovremo avere ovviamente il decoder, guardate qua, decoder wifi e comunque io lo collegherò con il cavo LAN perché sono vicino al router. Allora vediamo, guardate qua, questo è il decoder, qui abbiamo le varie uscite, io lo collegherò con l'HDMI e il cavo LAN, più l'HDMI abbiamo altre uscite che potrebbero ritornarci utili in base alle nostre esigenze. Allora potremo registrare direttamente fino a tre canali contemporaneamente, potremo sfruttare anche l'applicazione Sky Go Plus per utilizzare altri dispositivi come iPad e iPhone. Allora attivo in pochi semplici passi, qui abbiamo le istruzioni, dopo le andremo a seguire, abbiamo tutta la manualistica. Avevo visto nel centro commerciale molto comodo il telecomando che intravedo, allora vediamo se c'è un cavetto LAN, mi toccherà andarlo a prendere il cavetto LAN. Allora qui abbiamo il telecomando, vediamo, molto comodo perché ha il joystick, allora qua, allora telecomando, anzi mi correggo, il telecomando non è come quello che ho visto nel centro commerciale, prima cosa. Allora qui abbiamo le pile che andremo a inserire, abbiamo il cavetto per dare l'alimentazione al decoder, abbiamo un simpatico cavetto HDMI rosa e poi, e poi vediamo qua dentro cosa c'è, ah qui abbiamo sempre il trasformatore e detto questo andiamo a leggerci un attimo le istruzioni e andiamo a collegare il tutto. Allora, vediamo i passaggi, allora prima di iniziare verifica il contenuto della scatola e l'abbiamo fatto, verifica la connessione internet che si attiva ovviamente, segui la procedura per collegare il MySky, collega il MySky da TV, collega il cavo di alimentazione, collega il cavo della tua antenna terrestre, inserisci la tua smart card, la mia smart card che è qua dentro. Ovviamente vi arriverà anche una busta con dentro la smart card da inserire, poi, 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 accendi la TV e poi dovremo essere pronti. Accendi MySky col telecomando, per connettere MySky internet attivo al servizio ti basterà 4 step. Ti ricordiamo che puoi scegliere di connettere Wi-Fi oppure cavo Ethernet. Perfetto, molto semplice. Allora, intanto, prima cosa andiamo a inserire le due pile in dotazione. Allora, spero di aver ripreso tutto bene nell'inquadratura. Ok, tac, uno e due. Allora, andiamola a inserire qua dentro. Ok, tac, più, meno, più. Ok, trick. Allora, telecomando lo lasciamo un attimo qui. Allora, andiamo a tirare fuori la schedina che abbiamo nella busta che c'è arrivata con il decoder. Allora, dovrebbe essere questa la schedina. Andiamo, sento qualcosa di rigido. Eccola qui, la nostra schedina. Ok, la appoggiamo un attimo qua. Decoder, cavo di alimentazione. Allora, alimentazione che andiamo a inserire qua dietro al decoder. Allora, trick. Allora, abbiamo montato l'alimentatore. Allora, lo andiamo a mettere intanto dietro al decoder. Allora, qua. Guardate, lo infiliamo qua dietro. Blu con blu. Molto semplice. Allora, HDMI con HDMI. Ecco a cosa servono i colori. Cioè, veramente basico. Rosa con rosa. Blu con blu. Allora, però manca il verde. Perché il verde non ce l'abbiamo il cavo LAN. Allora, non ce l'abbiamo il cavo LAN da quanto vedo. Allora, posiamo un attimo qua. Potevano anche mettercelo. Ok. Eccoci qua. Cavetto HDMI. Olè. Allora, cavetto HDMI. Andiamo a collegare corrente. Cavo HDMI dietro la TV. Cavo LAN, sempre vicino alla TV. Oppure potrete utilizzare il Wi-Fi. Ok ragazzi, abbiamo collegato tutto. Alimentazione, HDMI, cavo Ethernet e cavo dell'antenna. Altra cosa che dovremo andare a fare è andare a inserire la nostra schedina dentro al decoder. E qua nella parte laterale. In questo modo andiamola ad inserire. Ora andiamo ad accendere la TV. Andiamo ad accendere il decoder. E vediamo come funziona il tutto. Ok ragazzi, rullo di tamburi. Accendiamo la TV. Allora, l'ho inserito nell'HDMI 2. Quindi posizioniamoci su HDMI 2. Allora, accendiamo il decoder. Se non è già acceso. Eccolo qua. Riconoscimento operatore internet. Il tuo MySky è connesso a internet. Step 1. Ok. Premiamo ok tramite il telecomando. Allora, vedo che la luminosità è un po' alta. Abbassiamola così riusciamo a vedere un po' meglio. Ok. Così ci dovremmo essere. Facciamo così. No, così. Ok. Andiamo avanti. Ok. Allora, operatore di internet. Riconoscere rilevato. Wind 3 infostrada. Perfetto. Ok. Step. Ok. Consentiamo. Sintonizzatore. Ok. L'abbiamo inserito, come vi ho fatto vedere prima. Ok. Sintonizzazione. Molto semplice. In pratica, come vi ho detto, abbiamo semplicemente collegato tutti i vari cavetti, cavettini, eccetera, eccetera. E stiamo effettuando la sincronizzazione del digitale terrestre. Cosa molto interessante, come vi ho già anticipato, secondo me un video del genere può essere anche molto utile per chi non sa cos'è Sky via fibra, cosa si può vedere. Perché, come vi ho già detto, non mi è piaciuto in passato Sky Online e che è poi diventato NowTV, mentre con questo se abbiamo gli stessi canali e quant'altro senza parabola e, tra virgolette, senza vincoli, nel senso che forse questo è un po' forviante, da anche io avevo capito male, senza vincoli vuol dire che possiamo portarci il nostro decoder, magari siamo in affitto anche in altre case. Ad esempio, con il pacchetto che ho fatto io, abbiamo un vincolo di un anno, poi dopo l'anno possiamo risiedere in qualsiasi momento, da come mi hanno detto. Il mio pacchetto costa 29,90 al mese con cinema, intrattenimento e tante altre cose, però ha solo un pacchetto. Mentre in questo momento c'è anche un'offerta che abbiamo proposto, ma siccome non guardo calcio, eccetera, eccetera, a 34,90. Però, siccome a me mi interessa più film, serie tv e quant'altro, ho scelto questo pacchetto. Finiamo la sintonizzazione dei canali del gittale terrestre e finalmente dovremo riuscire a vedere Sky TV via fibra. Ok, perfetto, ci siamo, abbiamo sintonizzato i canali del gittale terrestre. Allora, i seguenti canali hanno lo stesso, ok, ci sono dei canali duplicati, ok, 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 ok. Non c'è ok a tutti come su Windows. Ok, 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 vabbè, tanto l'abbiamo fatto anche sull'altra tv. Allora, quindi adesso vedremo i digitali terrestre tramite Sky. Richiesta di abilitazione in corso, speriamo che vada a buon fine, altrimenti bisogna chiamare il numero verde, c'è scritto sulla carta. Dove, allora, vediamo, benvenuto. Ok, nato a buon fine, siamo felici di darti il benvenuto in Sky. Stai per scoprire un mondo nuovo e di viverla a tv, ok, eccetera, eccetera. Allora, siamo contenti, ok, e andiamo a vedere Sky. Dov'è il pulsantino quello? Chiudi. Oh, finalmente siamo davanti all'interfaccia. Vediamo. Ok, sta caricando. Guida tv, rumore fastidioso. Allora, andiamo a vedere cinema, come funziona qua. Allora, ok, qua ci sono i canali, prime visioni, allora, grandi ritorni, i film più visti. Ci avevo già fatto vedere al centro commerciale un po' di roba, c'era veramente un botto, un botto di roba, un film al giorno. Allora, io voglio andare a vedere sui canali, per esempio, 301, che sono i canali della tv. Allora, considerate che non lo utilizzo quasi mai, ok, per guardare, boh, allora, per andare sui canali, allora, torniamo sulla home, calcio, intrattenimento, my tv, prima fila, caricamento dei programmi sergeriti in corso. Allora, se io vado qua, ok, allora, ecco quello che volevo farvi vedere, canali. Allora, andiamo su 301, a differenza di, abbassiamo un attimo anche il volume, allora, a differenza di, allora, volume, 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 un attimo, ok. A differenza di Sky Online e Now TV, abbiamo proprio i canali come, appunto, Sky Comparabola. E questo è già tanta, tanta roba. Quindi, Sky via fibra, per chi si chiedesse se è identico, uguale a Sky con parabola, cosa che mi hanno confermato al centro commerciale, è assolutamente uguale. Noi potremo andare avanti con i canali, vi faccio vedere, come avete visto sui vari Sky che magari ha vostro cognato, ha la vostra fidanzata, oppure comunque altri Sky che avete visto con la parabola. Guardate qua, abbiamo tutto, il titolo, da quanto è iniziato e tante altre informazioni comunque che avete visto con lo Sky, tra virgolette, normale. Allora, torniamo sulla home, vi faccio vedere altri contenuti perché vi interessa, My TV, Sky On Demand, e dopo andremo ad approfondire magari più avanti anche come registrare, i vari film e quant'altro, anche tre alla volta, insieme al pacchetto. Vi ricordo che abbiamo anche Sky Go Plus che si può utilizzare in tre dispositivi differenti, però uno alla volta. Sotto la stessa rete Wi-Fi potremo utilizzarli anche simultaneamente. Potrei andare a fare quasi il promoter per Sky, Sky Cinema, Sky Sport, Box 7, qui abbiamo altri contenuti, abbiamo qualità ultra HD, no, scusate, a qualità HD, non dovremo avere il 4K se ho capito male. Caricamento dei programmi suggeriti in corso probabilmente perché ancora non ho guardato una mazza e quindi non abbiamo programmi suggeriti. Qui ad esempio abbiamo bambini, per chi avesse i bambini, i canali da 600 in su. Allora, come primo feedback sono molto contento perché in realtà abbiamo quello che mi hanno promesso e con Sky Fibra ho deciso per il momento di disattivare Netflix perché ultimamente non so più cosa guardare e quindi ho deciso di stopparlo. In alternativa ho voluto provare Sky via Fibra. Allora ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine, spero che questa panoramica vi sia stata utile. Se avete qualche domanda su Sky via Fibra oppure se avete qualche dubbio non esitate sempre a commentare sotto al video. Detto questo, noi ci vediamo con il prossimo video e non mi rimane che salutarvi. Ciao! Ciao!